Allora siamo qui con Telissia e Lucia, una crostata da record per un progetto da record? Sì, la raccolta fondi per utilità di tutti, utilità sociale, è sempre un record. Chi, noi ringraziamo infatti i volontari, tutti quelli che aderiscono a questa giornata per darci una mano per questa raccolta. In un momento di crisi come questa c'è bisogno di fondi purtroppo per ampliare la nostra attività. Per un aiuto agli ammalati di cancro. Ecco, questo a noi sembra una cosa molto bella. Non abbiamo superato il record, non supereremo questo grande record. Il record non è superato per via del tempo, questa crostata. Volevamo superarlo, pazienza. Ma non importa, non è questo lo spirito. L'importante è fare questa opera di raccolta per i bisogni che ha la Lilt Valle d'Aosta in un momento, come ho detto, di crisi. Ecco, come si è realizzata questa crostata? Con il contributo di quante persone? Eh, tutti i volontari della Lilt, tutti quelli che credono in questo progetto. Abbiamo anche altri volontari, non solo della Lilt. E insomma, troviamo sempre gente disposta a darci una mano. Perché se un progetto funziona, la gente aderisce anche come volontario alla raccolta fondi. La Lilt. C'è un progetto funziona. C'è un progetto funziona. Poi scopta. Dì, è un progetto funziona. L'euro. Grazie a tutti. Grazie.